ben tornati sul canale armaghetto siamo qui con francesco simoncelli sgotti è il nome non so perché entrambi top 16 all'evento di world cars svizzera più top ovviamente avete chiuso entrambi 6-1-1 ok avete penso avete giocato entrambi si abbiamo giocato entrambi prankiz abbiamo parlato un sacco prima del torneo e in realtà non ci siamo trovati con la metà delle carte vabbè quindi vediamo il primo ok vediamo questo allora io gioco 47 partiamo le mostre e prankiz l'unica cosa sono 2-2-2-2 tende questo che ne gioco 3 solo per aumentare un attimo di stabilità e lui è l'unico che si è messo qui che è scarsissimo che va sopra statua nel caso sei contro Flanderiz ok terreno 2 vabbè ci sta terreno 2 con una terraforming che si vede dopo reparto break token questo qui è tutto standard l'entrap ho scelto di giocare 3 ash 3 bell 3 ogre e 3 impermeans secondo me le più forti settimana scorsa giocavo Nibiru ma ho visto che tanto non lo tiravo contro nessuno metà call vabbè esatto e a differenza di sgotti che ha scelto di giocare droll abbiamo litigato un sacco su droll per me fa schifo per lui è la carta più forte del gioco quindi bisogna un attimo capire poi vedo anche 3000 rispetto alla sua che ne era una sola lui gioca mono mina perché l'ho obbligato a metterla io ne gioco 3 perché mi rendo conto di essere la carta più forte del gioco e ho detto che senza mina non gioco e infatti tutte le volte che tu la tiri di primo vinci cioè non puoi perdere poi reparto di pie vabbè standard reparto di pie e buri foolish in gemma reset e rito i mostri dell'extra più o meno sono sempre quelli penso che erano uguali no l'unica differenza lui giocava un 2 ho giocato il terzo dodo al posto di dueling spider perché mi aspettavo un pochino di più io giocavo dueling spider ok ok quindi molto standard esatto questo non l'ho mai tirato fa abbastanza schifo molto standard la side ok poi la side la standard OP OP fortissimi la gente cancra e allora devo vincere contro di loro perfetto e questo basta era simon genio passiamo all'altro ok allora vabbè i pranki si vennero un po' diversi sì allora volevo fare un paio di premesse allora sì ci ho giocato a 47 carte sì e io ho giocato a 50 perché volevo giocare small world ok perché secondo me andando sopra le 45 devi avere 3 carte in più che ti ha di noi brave perché vuoi sempre non era d'accordo io non sono d'accordo no no se li avevo no aspetta adesso dimmi un attimo qui la logica in realtà era questa qui io gioco meno prankitz ok ed è vero meno starter ed è vero però io ho mina che lui non ha è vero quindi se io passo per 2-3 turni tanto l'altro non gioca non è un problema lo posso pescare il prankitz no ho bisogno di addarne perfetto la mia strategia la mia strategia era un po' diversa perché avevo paura di rendere il mazzo instabile ah quindi tu giocavi pure 3 terreno ok ho giocato 3 terreno e terraforming anche ok con mina e monomina 50 carte con small world che small world è come avere 3 brave in più quindi diciamo che come percentuali andando sopra le 45 carte per vedere brave il maggior numero possibile delle volte era necessario giocarne altre 3 a mio modo di vedere poi vedo le ht anche sono diverse giocando small world devi cambiare però un po' l'assetto di tutto il mazzo non puoi giocare troppe magie quindi non puoi giocare ad esempio 3 mine puoi giocare più mostri infatti la probabilità che avevo di pescare un prankitz era dell'89% io non ho fatto calcoli di probabilità io non ho fatto calcoli secondo me era necessario soprattutto arrivando ai turni non volevo sempre vederlo il prankitz cioè non è vero che il mazzo se non pesca prankitz può giocare lo stesso aspetta aspetta io ai turni quando mi mandavano ai turni puntavo a vincere prima però non volevo sprecare 3 slot di side poi vabbè le ht sono 16 flexpot cioè più 17 potenzialmente 18 dipende dal mazzo giocavi droll al posto su giocavo droll secondo me è l'ht più forte del formato da 3 mesi imparazzante perché a parte che mi aspettavo ma era solo il target di small world mi aspettavo diversi flander e contro flander è stata la carta che mi ha fatto vincere tutte le partite generalmente anche quando parti abbastanza scarso ti fanno delle ht in cui devi fare enforcer avere droll rende diciamo la mano molto più giocabile o comunque avendo un ht ad alto impatto puoi permetterti anche di giocare meglio attorno alle ht allo stesso tempo secondo me io facevo mina quindi non avevo problema vabbè le parti dps e poi ho giocato le droppete pure perché erano molto generiche mina comunque l'ho giocata perché erano i condition contro despia ma non volevo appesantire troppo il mazzo perché avevo paura di flander e non volevo settare il mazzo vabbè il resto è molto stable era settima foolish è settima rito esatto poi ho giocato l'extra ho giocato il terzo dodo perché non avevo paura troppo di nibiru in questo meta perché non si gioca tanto quindi preferivo avere il terzo dodo se magari mi facevano ht su prank se non riuscivo a rimischiarmi poteva essere più forte più funzionale rispetto al secondo link spider e il resto uguale il resto molto standard side la vedo pure diversa la side tu hai giocato alla sorella esatto dalla sora la differenza cioè ognuno ha i propri dai più o meno la differenza è che allora derk&b eravamo abbastanza d'accordo sul fatto che fosse una carta molto forte per baitare flander cosa che non riuscivi a fare allo stesso modo giocando ht io ho giocato storm e lui ha giocato twin è stata una scelta dell'ultimo minuto perché volevo coprire maggiormente match up come sword soul e 3 brigate d'espia cosa che con twin non avrei potuto fare sword soul si gioca ancora io faccio mina contro sword soul tanto non hanno altro hanno la trappolina te spacchi due no è solo una spacca due ne ho uno e contro contro flander comunque mi risultava una carta molto forte perché potevo decidere di spaccare o amp e pensato gli altri due cross out giocando un po' tutto è a cattiva ho giocato mono nibiru perché secondo me sì ce non l'ha giocato ma secondo me giocare mono nibiru non ha senso se no cross out c'è più di tanto sei esploso? ho vinto ok top 4 per mirko ho giocato ho giocato colled e corvo colled non riuscivo a giocarla di main perché non avevo spazio glielo ho detto sarebbe stato come giocare due corvi e cherry perché volevo una carta che spostasse il mirror match più dei miei avversari ok ci sta molto forte e anche cyber seldrich è molto più forte di pescare nibiru perché tu gliela fa in chain ad anaconda e anche se hanno fusion destiny cruda in mano con nibiru te la tirerebbero mentre con cherry hai bloccato dpa e hai bloccato il problema per tutta la partita e idem è anche una carta molto forte molto forte in mirror match perché arrivando vicino al tempo è un ht in più che non ti fa perdere da danno perché la fai su miau e non possono fare 500 quindi mi dava molta sicurezza ottimo ragazzi che mi volete dire siete soddisfatti no si in effetti si è arrabbiato si un pochino la top 16 non gli impassa il terzo posto mondiale io sono giusto è giusto come risultato io dovevo vincere perché vabbè penso che sarà l'ultimo torneo con questo amazzo dai spero speriamo anche se toccano tutto io gioco lo stesso perfetto con 3.000 con 3.000 ok e voglio ringraziare ringraziamo gli sponsor workarts e ecstimatic card ok e basta io ringrazio tutti tutti quelli che hanno testato nessuno lo aiuta a lui perché fa tutte le liste sue tutti quelli che hanno abbandonato a se stesso io ringrazio tutti quelli che hanno testato con me solito i miei genitori la mia ragazza sempre dove è il papi? io non ho ecco lì il papi papi io non ho una ragazza abbiamo anche l'Iuri top 16 con Despy Abba basta il numero di telefono però se ci sono belle ragazze singole che sanno giocare a Yugi le prendiamo se non fanno giocare a Yugi non le prenda anche se non sanno giocare a Yugi le insegniamo perfetto ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie mille a tutti